Siamo in compagnia della signora Giovanna Albertini dell'Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno. Qua a questa festa del biologico avete portato quindi dei prodotti della scuola, dell'istituto, fatti dai ragazzi a livello didattico e poi commercializzati, biologici, abbiamo sia gli oli che i farri e poi c'è anche il vino prodotto dalla nostra scuola. Quindi insomma la scuola si è avvicinata a questa filosofia del biologico? Sì, da un po' di tempo si è avvicinata alla filosofia del biologico con i ragazzi. L'esperienza è stata positiva con loro? Sì, hanno apprezzato e apprezzano e fanno volentieri questo tipo di cultura.